Sfiorata la tragedia a Villa Mare, due grossi alberi secolari sono stati abbattuti al suolo da spaventose raffiche di vento. Gli arbusti, che si trovavano lungo corso Italia, alle spalle della chiesa Maria Santissima di Portosalvo, sono stati sradicati dalla furia del vento, dividendo letteralmente in due la strada, travolgendo alcuni mezzi in sosta e abbattendo anche alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica. Fortunatamente nessuna persona si trovava in quel momento a passare in zona, né a piedi né in macchina, complice l'improvviso temporale che si è abbattuto sulla cittadina marinara del comune di Vibonati. Prontamente sono intervenuti protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione, che hanno messo in sicurezza l'area. Il forte vento ha provocato danni anche a diverse abitazioni, che hanno visto volare via a tegole o infrangersi vetri. Alcune impalcature sono state tirate giù dal vento, mentre sulla statale 18, tra Villa Mare e Sapri, si sono verificati allagamenti e sono volati via rami e foglie che hanno rallentato la circolazione stradale. Momentanei problemi alla viabilità anche lungo la provinciale tra Sapri e Torraca, tra Torraca e Tortorella e in località Brizia a Sapri. A causare i disagi, sempre la caduta di alberi e rami abbattutisi al suolo a causa del forte vento, fortunatamente senza causare gravi danni né alle persone né alla circolazione che è ripresa una volta ripulita la strada. Danneggiamenti anche all'interno dell'ospedale dell'Immacolata. Una forte raffica di vento, probabilmente a causa di una finestra aperta, ha divelto una porta in un reparto. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.